Nicola Sarsi, una vittoria importante, una vittoria per 3-0, Modena che ha giocato un grande volley, tanto spazio anche per i giovani come te e come Uelo che soddisfattiene c'è Nick. Sicuramente una grande emozione, sapevamo che non era una partita facile, loro stanno giocando molto bene in questo periodo e noi però l'abbiamo preparata molto bene, abbiamo giocato bene, pochi errori fra di noi. Nicola che emozione è stata quando hai capito che avresti giocato anche alla fine del mezzo, sei rimasto lì fino alla fine. Senti, tanta roba, tanta roba davvero, i ragazzi sono bravi, sono bravi, sono bravi i ragazzi, anche se ho fatto un po' una cavolata nel mio punto, chissà, ho fatto tutto. Venti Nicola, una settimana di lavoro, poi arriva a Milano, un'altra squadra difficile da affrontare. Difficile sì, che l'ho affrontata, sempre con un testo per essere, con cui abbiamo affrontato questa, senza sottofondo, posso valutare solo. Sappiamo che anche loro possono essere una squadra ostica, quindi non c'è anche che andare in paese.